Musiche tradizionali dall'Europa centrale alla Russia sono riecheggiate ieri sera in Piazza Brin alla Spezia grazie al quartetto K formato da Matteo Salerno al flauto, Stefano Martini al violino e Gidio Collini alla chitarra e Francesco Giampaoli al contrabbasso che hanno presentato San Pietroburgo Express riadattando secondo il proprio stile le migliori composizioni dell'Europa orientale. Si è passati da brani tradizionali ungheresi a Ubai, Dunajewski, Shostakovich, Piacitana e alcuni. La serata rientra nella serie di appuntamenti organizzati dall'Associazione Musicale Il Pianoforte nell'ambito del 22esimo festival provinciale I Luoghi della Musica. Prossimo appuntamento dell'Associazione Musicale Il Pianoforte, quello conclusivo, venerdì 26 a Pianifollo, chiesa di San Martino Hondurasca, con Ninne e Nanne dal mondo rotondo ad esibirsi Nicoletta Tiberini e Nadio Marenco. Abbiamo Francesco Giampaoli, abbiamo Fabio Gattoni al contrabbasso.